Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e il notiziario di Teleradio Canigatino. Un saluto dalla redazione. La targa danneggiata della stere di Rosario Livatino sarà riparata. Il pezzo mancante che è stato divelto è stranamente ritrovato nel posto dove è stato ucciso il giudice canigatinese. Tornerà al suo posto. Sediamo in questa intervista il magistrato Salvatore Vella e il prefetto Nicolà Diomere. Sicuramente è una cosa che non fa piacere. Un ulteriore atto di violenza venga commesso in questo posto che è simbolico di un posto dove tutti noi dovremmo riconoscerci. Siamo qui per dare un senso alla presenza di questa stele, un senso a quello che è successo qui nel 1991. C'è la volontà dell'Associazione Nazionale Magistrati della sezione di Agrigento, assieme all'Associazione Amici di Rosario Livatino e all'Associazione Tecnopolis, di ricostruire quello che è stato distrutto anche lasciando la cicatrice perché è un segno giusto che resti di quello che avviene in questa nostra terra in modo che questo luogo sia di nuovo pronto e lasciato alle donne e agli uomini di questa terra per la commemorazione di settembre. Come ha detto il Dottore Vella, innanzitutto per me ma per tutti, questo è un luogo che è la nostra coscienza, è un luogo che è la nostra intimità di valori. Quello che è stato il sacrificio del giudice Livatino non sta a me qui ricordarlo, lo sappiamo tutti ed è una persona e non un personaggio, una persona che è assolutamente nota a livello, nell'intero territorio nazionale. Aggiungo che c'è stato un, come dire, proprio emotivamente una corsa, una partecipazione da parte di diverse realtà a intervenire per recuperare l'integrità di questa nostra coscienza in questo luogo. L'Associazione della Strada per gli Iscrittori, Felice Cavallaro, il Presidente, mi ha telefonato e mi ha detto che avevano il piacere di occuparsi loro, evidentemente insieme agli altri, al contributo di tutti, del ripristino di questa stele. Così come devo dire che anche stamattina l'Avvocato Fioretti della CMC mi ha telefonato e mi ha detto che siamo noi assolutamente disponibili a farci carico del ripristino di questo luogo. Ora, come ha detto giustamente il Dottore Vella, le modalità attraverso cui verrà ripristinato e rimesso in corretta e giusta e opportuna visione che tutto quanto verrà concordato anche con l'associazione Tecnopolis e gli amici del giudice Livatino, con l'autorità giudiziaria, con l'autorità religiosa, qui c'è Don Livatino, ed è una cosa. L'Avvocato Fiorotti o Fioretti, francamente in questo momento credo che sia Fioretti, siamo rimasti d'accordo che se qualcuno si occuperà della stele, io ho chiesto alla CMC di occuparsi invece di dotare di una adeguata illuminazione questo posto, dotare questo luogo anche di un sistema di videosorveglianza che possa comunque come forma, come misura passiva, essere un accorgimento in termini di cautela. Occuparsi anche nei limiti del possibile di una migliore sistemazione di questo posto, prevedendo per esempio anche l'installazione di una panchina o due panchine, perché chi volesse o ritenesse di fermarsi per un pensiero, per una riflessione, abbia la possibilità anche magari di sedersi e la CMC si è detta assolutamente pronta a intervenire su questo tipo di attività, d'accordo ed inteso ovviamente con l'ANAS, perché tutte quante queste cose non devono essere di disturbo in viazione rispetto alla circolazione statale del viadotto, del viadotto quello che noi vediamo è il viadotto intitolato già al giudice Livatino. Chi compie gesti così vili lo fa per balordaggine o per paura? Così il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittore Messina, commenta il danneggiamento della stele intitolata al giudice Rosario Livatino. Un gesto squallido, continua Messina, che si collega ad altri danneggiamenti dei simboli della lotta alla mafia. Un gesto che conferma la debolezza di chi lo ha compiuto, di chi lo ha commissionato e chi è teso a combattere la crisi dei propri riferimenti valoriali. La prima reazione, conclude Vittorio Messina, deve essere quella di ricostruire subito quei simboli la cui memoria continua a dare fastidio a chi oggi è più debole grazie al lavoro prezioso di uomini come Rosario Livatino. E a seguito del danneggiamento della stele a Rosario Livatino, sul luogo della guata da Grigento, incontrerà da Gasena, lungo la statale 640, la sezione agrigentina dell'Associazione Nazionale Magistrati e le associazioni amici del giudice Rosario Livatino e Tecnopolis si occuperanno del ripristino della rastra di marmo spaccata sul nome del magistrato. Invece la CMC Costruzioni, impegnata nei lavori del raddoppio della statale 640, installerà l'illuminazione pubblica nella zona e l'Associazione Strada degli Iscrittori collocherà un impianto di videosorveglianza. Tutto ciò sarà pronto, secondo le intenzioni, entro il prossimo 21 settembre, giorno del 27esimo anniversario della morte del giudice Rosario Livatino. Per dieci anni, dal 1979 al 1989, lavorò in silenzio in quella stanza al primo piano dello stabile di Piazza Gallo, quando era ancora la sede del Palazzo di Giustizia. Ora il suo ex ufficio, terz'ultima porta a destra del corridoio, diventa la stanza della memoria. Per iniziativa del sindaco di Grigento, Lillo Firetto, in accordo con il presidente del Tribunale, Pietro Falcone, in quel locale che si trova adesso nella sede del comune, è stata ricostruita la stanza della memoria, partendo da quello che era l'ufficio di Rosario Livatino, barbaramente assassinato alla mafia il 21 settembre del 1990, mentre a bordo della sua utilitaria si stava regando al lavoro proprio in quel palazzo. A 27 anni di distanza da quel terribile delitto, con la collaborazione di alcuni magistrati che lavoravano in quegli anni nello stesso palazzo, a fianco del giudice Livatino, è stato possibile ricomporre l'ufficio con gli arredi dell'epoca, a ricordo e testimonianza dell'opera del giudice Ragazzino, così come veniva soprannominato Rosario Livatino, quasi subito dopo la uccisione per via anche della sua giovane età, ma anche prima della morte. Tutto è tornato al suo posto, l'armadio restaurato, la vecchia macchina da scrivere, la scrivania in legno sulla quale soleva poggiare tutti gli incartamenti e anche il Vangelo. Su quella scrivania trova posto una copia dell'agenda personale del magistrato, quella resa famosa dall'acronimo Rompicapo STB Subtutela dei, che nelle indagini successive alla Barbara Uccisione tenne impegnati gli investigatori per lungo tempo. Chiedo scusa anche pubblicamente e anche per conto di che non l'ha fatto e avrebbe dovuto farlo per uno dei più colossali errori giudiziari commessi. Chiedo scusa a innocenti che sono stati condannati all'ergastolo. Lo ha detto Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, morto nella strage di via D'Amelio al termine dell'audizione alla Commissione Antimafia, parlando dei depistaggi, delle indagini sull'attendato in cui morì il padre. Sono stati buttati via 25 anni, 25 anni di storia giudiziaria, dipentiti, costruiti con lusinghe o torture ha aggiunto Fiammetta Borsellino. Vediamo il servizio. La nostra parte alla ricerca della verità vera, non alla ricerca di qualunque verità perché è la tentazione a cui non bisogna cedere e che non essendo riusciti in questi 25 anni ad affermare tutta la verità non ci possiamo permettere certi scorciatoi adesso. Lo ha detto la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Rosi Bindi, a margine dell'inaugurazione del murales che all'Istituto Nautico ricorda i giudici Falcone e Borsellino commentando l'audizione avvenuta ieri a Palermo del magistrato Fiammetta Borsellino. Il depistaggio è un momento importante di questi 25 anni. Una volta scopertosi andati avanti, se ci sono aspetti da chiarire ancora lo faremo. Aggiundo la Presidente Bindi, continueremo ad approfondire con elementi in nostro possesso e con altri che acquisiremo facendo audizioni e richiedendo documenti come Commissione Antimafia senza sostituirci alla magistratura in sede giudiziaria. Fiammetta ha l'autorevolezza per dire queste cose anche perché fino adesso non ha mai detto niente per cui quello che dice è Vangelo. La ricerca della verità si fa sempre. Lo ha detto Rita Borsellino commentando l'intervista rilasciata dalla nipote Fiammetta Borsellino che ha parlato di 25 anni di schifezze e menzogne che ieri è stata ascoltata dalla Commissione Antimafia. Rita Borsellino è in Via D'Amelio dove il fratello magistrato è stato ucciso il 19 luglio di 25 anni fa con cinque agenti della Polizia di Stato che lo scortavano Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuni, Walter Cosina e Claudio Traina. Parlo spesso di Coriandoli di verità perché questa ricerca è diventata un tema carnescialesco ha raggiunto Rita Borsellino. Cosa mi aspetto? Cosa mi devo aspettare? Che ci sia verità. Abbiamo questa mania dei numeri. Mi aspetto che il ventisesimo anniversario, il prossimo, lo possiamo celebrare come l'anno della verità. Bisogna rispettare la memoria di Paolo Borsellino e il dolore dei familiari. Io so e tanti sanno fuori e dentro la mafia, fuori e dentro le istituzioni che in questi anni ha continuato a cercare la verità sulla strage ed istituzioni che in questi anni sono stati vicini alla famiglia ed ha esposto la propria famiglia a rischi sacrificando la propria libertà e anche la carriera, ha detto invece il pubblico ministero Nino Di Matteo rispondendo alla figlia di Paolo Borsellino che ha parlato di depistaggi delle indagini sulla strage di Via D'Amerio e dei pubblici ministeri come Di Matteo che avevano svolto le indagini. Credo che questo sia giusto ricordarlo, ha aggiunto il magistrato per evitare che certe parole possano essere strumentalizzate da chi non vuole che si vada avanti nel completare il percorso di verità sulle stragi anche cercando di capire con gli elementi nuovi che sono stati scoperti in questi anni chi eventualmente assieme agli uomini di Cosa Nostra ha ucciso Paolo Borsellino. La mafia avrà una fine, tuo Piero, è la convinzione che il presidente del Senato Piero Grasso esprime in una lettera all'amico Paolo Borsellino nel ricordo della sua scomparsa. In questi 25 anni rimarca Grasso parlando della strage di Via D'Amerio si è fatto tanto anche se non abbiamo quella Sicilia completamente libera dalla mafia che sognavamo allora. Il presidente Mattarella è un punto di forza dell'unità nazionale, di coloro che non si arrendono, abbiamo giovani che vanno a coltivare terreni confiscati, cittadini che si rifiutano di pagare il pizzo. Tutto questo è il frutto del sacrificio Borsellino e degli uomini del pull antimafia. Davanti alle bari di questi uomini, presegue il presidente del Senato, dobbiamo impegnarci tutti a continuare la loro opera con senso del dovere dello Stato. La cronaca, i carabinieri della stazione di Licata hanno arrestato in fragranza di reato un gommista di 33 anni e deferito è stato in libertà alla Procura della Repubblica di Egrigento tre suoi familiari, tutti responsabili in concorso di furto aggravato di energia elettrica. I militari dell'arma, collaborati dal personale dell'Enel, hanno effettuato un'ispezione presso l'officina di proprietà del 33enne Licatese dove veniva accertata l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica che oltre ad alimentare abusivamente l'attività commerciale si estendeva verso la limitrofa abitazione di proprietà dei tre familiari del commerciante Licatese. L'arrestato su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. I carabinieri di Ravanusa nel corso di un controllo di polizia hanno arrestato un uomo di 50 anni di sommatino che da una verifica al terminale è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I militari hanno sorpreso il cinquantenne nel centro abitato di Ravanusa in compagnia di un altro soggetto del luogo già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri il sommatinese ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga con la propria autovettura ma è stato bloccato dopo un brevissimo inseguimento dalla pattuglia dei carabinieri. L'arrestato quindi è stato condotto in caserma dopo le formalità è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. A conclusione di articolate attività investigative e patrimoniali coordinate dalla Direzione Estettuale Antimafia di Caltanissetta è stata data esecuzione al decreto di sequestro e fini di confisca di attività economiche, beni immobili e immobili, assicurazione ai conti correnti postali e bancari emesso dal Tribunale di Enna a carico di Gabriele Giacomo Stanzù per un valore complessivo di 11 milioni di euro. I dettagli. Colpo grosso della Guardia di Finanza a Piazza Armerina a Idone e a Assoro in provincia di Enna. A conclusione di articolate attività investigative e patrimoniali coordinate dalla Direzione Estettuale Antimafia di Caltanissetta svolte congiuntamente dai finanzieri del GICO, del Nucleo di Polizia Tributaria di Caltanissetta e dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Enna coadiuvati nelle fasi esecutive dai colleghi della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina è stata data esecuzione al decreto di sequestro ai fini di confisca di attività economiche, beni immobili e immobili, assicurazioni e conti correnti postali e bancari emesso dal Tribunale di Enna a carico di Gabriele Giacomo Stanzù, 67 anni detenuto, e dei congiunti Elisabetta Buttaccio Tardio, Domenica Stanzù, Benedetta Stanzù, Nicola Antonio Stanzù, Carlotta Conti Mammamica. Il provvedimento a carico di Gabriele Giacomo Stanzù arrestato nel 2011 in virtù di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Caltanissetta nell'ambito di procedimento penale per il delitto di omicidio aggravato dal metodo mafioso e quindi condannato in via definitiva alla pena della reclusione di 14 anni e dei loro congiunti ha interessato il sequestro di 349 ettari di terreno, 8 fabbricati, 10 autovetture e diversi conti correnti postali e bancari per un valore superiore a 11 milioni di euro. Nell'ambito dell'attività investigativa hanno assunto particolare rilievo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia acquisite tra il giugno 2011 e il maggio del 2012 dalle quali emergono qualificati contatti tra Stanzù e l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra in particolare con la famiglia di Enna oltre che con soggetti della malavita gelese in particolare Daniele Emanuello deceduto in un conflitto a fuoco in occasione della sua cattura nel 2007 almeno dal 1998. Tali acquisizioni hanno dimostrato la sussistenza di idonei elementi indiziari strumentali ad un giudizio di pericolosità sociale qualificata ascrivibile a Stanzù quale appartenente all'associazione mafiosa. Il Tribunale di Enna, misure di prevenzione riunito in Camera di Consiglio pienamente concordando con l'impianto accusatorio della direzione di stettura antimafia di Caltanissetta ha emesso il provvedimento di apprezzione materiale dei beni sequestrati e la successiva immissione degli stessi in regime di amministrazione da parte dello Stato. Torna in libertà Fabio Rubino il giovane canicattinese arrestato ai domiciliari dai carabinieri di Canicattì perché sorpreso a coltivare marijuana in casa. Il giovane dopo l'interrogatorio di gananzia è stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Rubino era finito ai domiciliari nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno eseguito un controllo presso l'abitazione del giovane dove hanno trovato quattro vasi con piante di marijuana. Nel corso della perquisizione è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente posta di siccare e nascosta all'interno di alcuni contenitori. Resta ai domiciliari l'ottantenne è arrestato dai carabinieri per l'incendio che ha provocato nei giorni scorsi tanto panico e danni a Sciacca lo ha deciso il GIP del Tribunale. L'anziano è stato bloccato e arrestato da un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio sarebbe stato trovato in possesso di due accendini di cui non avrebbe saputo giustificare il possesso. Slitta per la seconda volta sempre a causa dello sciopero degli avvocati penalisti l'udienza in Cassazione a carico dell'ex sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis che in caso di conferma della sentenza d'appello tornerà in carcere per scontare una condanna a sette anni e tre mesi di reclusione per l'accusa di concussione. De Rubeis è accusato di avere costretto gli imprenditori Sergio Vella e Massimo Campione a pagare una tangente 7 mila euro il primo 50 mila il secondo nella speranza che poi si arriva alla Tavana di sbloccare il credito milionario che le loro ditte avevano contratto col comune di Lampedusa. La Suprema Corte avrebbe dovuto trattare il ricorso ieri del difensore l'avvocato Silvio Miceli ma l'astenzione della Camere Penali ha portato allo slittamento. Un primo rinvio c'era stato il 22 marzo De Rubeis nell'estate del 2009 per questi fatti fu arrestato il provvedimento in seguito fu annullato dal Tribunale dell'esame ma i giudici lo condannarono sia in primo grado che in appello dove c'è stato un aggravamento addirittura della pena si torna in aula adesso il 30 gennaio 2018. Operazione Vertigini assenteismo al comune di Villa Franca Sicula eseguite 12 misure cautelari personali tra questi anche il medico e la sua segretaria. I militari della compagnia Carabinieri di Sciacca hanno eseguito 12 ordinanze di applicazione di misura cautelare personale emesse dal GIP presso il Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 10 impiegati pubblici del comune di Villa Franca Sicula nonché di un medico di base e della sua segretaria. Le ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari per il medico e dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tutti gli altri sono state messe al culmine di un'attività investigativa svolta dai militari dell'arma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca in tema di contrasto al fenomeno del cosiddetto assenteismo. I reati contestati vanno dalla truffa aggravata e continuata in danno dell'ente pubblico alla falsità in certificati medici. Fra i tanti dipendenti comunali coinvolti nell'attività investigativa spiccono anche alcuni impiegati con funzioni di responsabilità che hanno agevolato il personale assenteista strisciando nel beige per attestare la presenza. La complessa articolata attività di indagine eseguita con servizi di osservazione e pedinamento ma anche mediante sistemi di videoripresa e intercettazione di comunicazioni ha evidenziato continue condotte illecite poste in essere da buona parte del personale dipendente che era solito allontanarsi dal luogo di lavoro per svolgere attività di esclusivo interesse personale. Il comune di Villa Franca Sicula con una popolazione di circa 1300 residenti ha 71 impiegati in servizio presso l'ente comunale i cui comportamenti lavorativi sono stati monitorati nel corso delle indagini. Le condotte di alcuni si concretizzavano sostanzialmente nelle già note timbrature multiple dei badge personali e nelle attestazioni di servizio notturni mai eseguiti un dipendente era solito strisciare il badge in piena notte senza che alcun dirigente verificasse le reali esigenze di servizio è stato inoltre accertato come il custode di un'antica villa di interesse storico monumentale la cosiddetta Villa Musso pur risultando presente in servizio in realtà non svolgeva il proprio lavoro tenendo chiusa la struttura e quindi non fruibile al pubblico. Emblematico è il caso di una dirigente di settore che sistematicamente determinati giorni della settimana disponeva che il proprio coniuge dipendente di un altro settore venisse impiegato in qualità di autista personale al fine di potersi allontanare con lo stesso dall'ufficio recandosi nei comuni di Libera e Sciacca per fare shopping o commissioni di natura privata inoltre l'indagine ha posto l'accento sull'analisi del massiccio aumento delle certificazioni di malattia presentate dai dipendenti dell'ente pubblico con l'approssimarsi dell'autunno soprattutto in corrispondenza del periodo solitamente dedicato alla raccolta delle olive tale attività investigativa che si è protratta per alcuni mesi ha consentito ai militari della stazione di Burgio mediante l'acquisizione documentale seguita presso l'Inps di accertare che nell'arco di un anno i dipendenti comunali di Villa Franca Sicula avevano inoltrato più di 800 certificati medici quasi tutti rilasciati dallo stesso medico di base tale anomala quantità di certificazioni induceva gli inquirenti ad una più attenta valutazione della reale natura degli stati di malattia assolutamente diagnosticati spostando l'attenzione sulle attività dello studio medico interessato in tal senso si riscontrava che effettivamente quando i dipendenti comunali necessitavano di maggiore libertà d'azione si avvalevano della collaborazione del medico di base compiacente che certificava al telefono la malattia dei pazienti senza verificarne il reale stato di salute in alcuni casi soprattutto quelli in cui il paziente richiedeva con urgenza il rilascio del certificato medico la redazione su commissione veniva eseguita direttamente dalla segretaria del professionista nel corso delle indagini è emerso inoltre che lo stesso medico pur di far risparmiare i propri assistiti le somme da versare per l'acquisto dei farmaci più costosi o per il pagamento delle visite specialistiche proponeva di sua iniziativa l'intestazione delle relative ricette a soggetti terzi con il requisito delle sensori ticket così da porre il costo dell'intera prestazione a carico del servizio sanitario nazionale sono stati resi noti i nomi dei soggetti interessati dalle ordinanze di custodio cautelare sono il medico di base Gatano Montana 63 anni Giovanna Blanda la segretaria del dottor Montana 28 anni Santo Buonaccorso 53 anni Rosa Buscemi di 59 anni Giuseppe Ganga 63 anni Giuseppe Calabrese di 53 anni Mariano D'Angelo 62 anni Calogero Latino 58 anni Vito Perricone 61 anni Paolo Scarpinato 63 anni Paolino e Paolo Girgenti sono omonimi il primo di 60 l'altro di 56 anni A Cursio Amato il lavoratore socialmente utile di 55 anni del comune di Sciacca ai domiciliari per il tentato omicidio della moglie condannato in primo grado in appello ha impugnato davanti al giudice del lavoro il licenziamento operato dall'ente Amato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio a sei anni di reclusione per tentato omicidio nei confronti della moglie ma anche al licenziamento da parte del comune di Sciacca perché avrebbe voluto tornare a lavorare e quindi non ci sta dovrà pronunciarsi adesso il giudice del lavoro che ha fissato la prima udienza al prossimo 21 novembre il comune avrà tempo fino all'11 novembre per costituirsi per giudizio Riprendiamo con le notizie opportunità di finanziamento per le piccole e medie imprese siciliane domani sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione Sicilia un nuovo bando con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro vediamo i dettagli sarà pubblicato in gazzetta ufficiale domani l'avviso pubblico con una dotazione finanziaria di ben 70 milioni di euro finalizzato a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese è quanto afferma l'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello che continua il bando prevede il sostegno alla creazione e ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi con la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale ed è rivolto alle piccole e medie imprese in forma singola o associata il costo totale ammissibile del progetto presentato non dovrà essere inferiore a 250 mila euro e superiore a 4 milioni di euro gli aiuti evidenzia Mariella Lobello verranno concessi con procedura a sportello nella forma in conto capitale fino ad una misura massima pari al 45% per le piccole e micro imprese del 35% per le medie imprese le operazioni chiarisce l'assessore le attività produttive saranno selezionate in relazione ai piani di attività che valuteranno la fattibilità tecnologica e operativa la sostenibilità economica e finanziaria o un minore impatto ambientale o una migliore gestione sostenibile di quest'ultimo e la maggiore inclusività riguardo a quest'ultimo aspetto conferma l'assessore Lobello ci riferiamo a progetti che prevedano esplicitamente principi di non discriminazione volti a garantire l'accessibilità a persone con disabilità domani alle 10.30 a Palermo si terrà l'assemblea quadriennale elettiva della CNA Sicilia la Confederazione Nazionale dell'Artigionato e della Piccola e Medie Impresa dunque chiamata a rinnovo dei gruppi dirigenti regionali i lavori saranno aperti da Presidente regionale uscente Giuseppe Cascone interverrà il Secretario Nazionale della CNA Sergio Silvestrini nel corso dell'assemblea saranno raccontate alcune storie esemplari di artigiani siciliani che hanno creato realtà imprenditoriali di primo livello ai lavori sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni delle forze sociali ed economiche ieri il canicattinese Francesco Di Natale è stato eletto Vice Presidente Nazionale del settore commercio della CNA i nostri conti sono a posto lo ha dichiarato il Presidente della Regione Rosario Crocetta dopo il giudizio positivo di parifica espresso dalla Corte dei Conti che ha rigettato la proposta di bocciatura del bilancio consultivo 2016 dal Procuratore Zingale quindi avanzato proprio dal Procuratore della Corte dei Conti in questi anni prosegue il Presidente Crocetta abbiamo fatto uno straordinario lavoro di risanamento portando un bilancio che nel 2016 presentava un disavanzo di meno di 2 miliardi di euro e oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro di debiti non pagati in una situazione in cui negli ultimi tre anni si è avuto oltre un miliardo di avanzo dopo aver pagato i fornitori il nostro governo ha concluso il Presidente Crocetta ha salvato la Sicilia e ne siamo orgogliosi quindi a questo punto Crocetta ha detto che è pronto a ricandidarsi il Presidente del Senato Piero Grasso invece conferma la sua intenzione a non candidarsi alla presenza della regione siciliana i miei doveri istituzionali di Presidente del Senato afferma Grasso rispetto a quando ho espresso l'impossibilità di candidarmi sono se possibile ancor più stringenti in questo momento è noto a tutti prosegue che negli ultimi giorni si sono avvertiti di fibrillazioni politiche nella maggioranza che sostiene il governo e che i prossimi mesi saranno particolarmente delicati la fase finale della legislatura sarà temo fortemente influenzata dall'avvicinarsi delle elezioni nella primavera del 2018 si è svolta a Favara un'assemblea del Comitato Provinciale della Sinistra Alternativa che si è riunita per affrontare la nuova sfida delle elezioni regionali diversi punti all'ordine del giorno la necessità di portare avanti anche a livello provinciale l'appello per una lista della sinistra alternativa alle elezioni regionali l'analisi dei punti programmatici fondamentali per una coalizione orista della sinistra alternativa l'elaborazione di nuovi punti programmatici presenti diverse realtà politiche territoriali anche alcuni ospiti osservatori come Pippo Di Falco coordinatore provinciale di Sinistra Italiana all'interno dell'assemblea inoltre è stato eletto un coordinamento provinciale provvisorio ed aperto attualmente composto da Francesca Palumbo Michele Cunetto Vincenzo Lombardo Nicolo Vignanello Luigi Cavaleri Mimmo Tardino i partecipanti infine hanno prefissato la nuova assemblea che riunisca i militanti simpatizzanti nelle zone di Sciacca Ribera Bivona Luccasicola e Canicattì torna a riunirsi stasera alle 19 il consiglio comunale di Canicattì convocato dal presidente Alberto Tedesco sono 8 gli argomenti che saranno discussi dai consiglieri comunali tra questi la proposta di affidamento della discussione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate tramite l'iscossione Sicilia poi l'approvazione del regolamento per la gestione del rifugio sanitario infine riconoscimento di tre debiti fuori bilancio per sentenze passate in giudicato Adelia si è dimessa l'assessore con delega alla solidarietà sociale famiglia pari opportunità Maria Concetta Giuliana al suo posto subentra Letizia Strazzeri psicologa che ha accettato la nomina prestando stamattina giuramento previsto dalla normativa vigente nella sua lettera inviata al sindaco l'assessore Giuliana ha spiegato che non potrà più per sopraggiunti impegni professionali dedicare il suo tempo e le sue energie all'attività pubblica chi mi conosce bene si legge nella nota sa quale impegno abnegazione dedico in tutto quello che faccio questo mio nuovo assetto professionale richiede ancora più tempo e risorse di prima mi porterà certamente a sottrarre tempo e spazio alla delicata funzione che mi ha affidato il sindaco ecco perché con il mio grande disappunto ho preso questa decisione con grande rammarico e quindi ho dovuto dimettermi al suo posto come detto Letizia Strazzeri nuovi medici in servizio all'ospedale di Ricata lo ha disposto l'aspe di Agrigento accogliendo le sollicitudine nel sindaco Angelo Cambiano a Canicatì la situazione continua ad essere grave non c'è nessuno che interviene mentre a Licata il sindaco Cambiano ha alzato la voce e ha ottenuto sei nuovi medici presso l'ospedale di Licata il San Giacomo d'Alto Passo vediamo i dettagli l'azione di personale presso il presidio ospedaliero San Giacomo d'Alto Passo di Licata viene potenziata con l'immissione in servizio di un nuovo dirigente medico chirurgo un anestesista un pediatra e tre cardiologi i provvedimenti deliberati dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento guidata dal dottor Salvatore Lucio Ficarra hanno l'obiettivo di incrementare l'efficienza operativa ospedaliera e far fronte alla contingente carenza organica acuita durante la stagione estiva dalla maggiore densità di abitanti a Licata gli incarichi a tempo determinato avranno la durata di sei mesi e si inseriscono nel quadro delle azioni previste per fronteggiare il temporaneo blocco regionale delle assunzioni la convocazione per l'affidamento dell'incarico di chirurgo è prevista per lunedì mattina 24 luglio presso i locali dell'area gestione risorse umane dell'ASP mentre quella per il profilo di anestesista si è già conclusa con successo immediatamente dopo sarà la volta dei cardiologi e del pediatra l'urgenza dei provvedimenti stabiliti dalla direzione ASP oltre a mirare e appianare le criticità emerse e a incrementare costantemente gli standard qualitativi dell'offerta sanitaria scaturisce da un continuo dialogo costruttivo con il comune di Licata e con il suo sindaco Angelo Cambiano Per fronteggiare la momentanea riduzione della portata idrica a Campobello di Licata generata dal congomitante fermo tecnico dell'acquedotto Fanaco predisposto da Siciliacque e il contestuale Guasto e la Diga Castello aderendo alla richiesta del sindaco Gianni Picone Girgenti Acqua predisposto all'approvvigionamento sostitutivo di acqua potabile a mezzo ottobotte messo a disposizione di tutti gli utenti che si regaranno al presidio predisposto nella piazza Peppino Impastato l'erogazione idrica nel comune di Campobello di Licata sarà ripristinata stasera con turnazioni straordinarie per arrivare in tempi rapidi alla normalizzazione dei turni previsti ancora consigli per gli acquisti poi torneremo in studio e parleremo dell'ex provincia con alcuni nuovi atti del commissario straordinario Giuseppe Marino ma anche nuovi atti sindacali l'ex provincia del Grigento vende alcuni mobili per fare cassa il commissario straordinario del libero consorzio comunale Giuseppe Marino infatti ha deliberato il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio dell'ente vediamo i particolari l'ex provincia batte cassa e vende i gioielli di famiglia il commissario straordinario Giuseppe Marino ha infatti approvato su proposta del settore edilizia e gestione patrimoniale il piano delle alienazione e valorizzazioni dei beni della provincia non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali per l'anno 2017-2019 il piano prevede la dismissione e l'utilizzo mediante rinnovo del comodato d'uso di nove unità immobiliari per le dismissioni sono stati individuati i seguenti immobili lotto di terreno adibito a villetta comunale nel comune di Castrofilippo confinante con la proprietà del comune di Castrofilippo e proprietà private dal valore di 30.000 euro da dismettere con previsione di vendita nel 2018 un edificio a comitini confinante con proprietà private dal valore di 6.300 euro da dismettere con previsione di vendita nel 2018 un immobile e pertinenza a casa albergo per la terza età a Ribera dal valore netto di inventario di 1.684.000 euro immobile e pertinenza e centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli a Ribera del valore di 7.400.000 euro da valorizzare mediante dismissione con previsione di vendita nel 2018 in vendita anche il reditto stradale lungo l'ex provinciale 37 tratto Sciacca Caltabellotta-San Carlo pari a 320 metri quadrati con un prezzo stimato in 640 euro il piano contiene anche dei lotti da destinare per operazioni di riqualificazione e recupero mediante gestione e locazione o concessione anche con mutamento di destinazione d'uso un immobile a Bivona nella via Roma valore netto di inventario 681.000 euro incomodato d'uso dal 2017 da valorizzare mediante gestione e locazione o concessione a medio e lungo termine immobile a Cattolica Araclea ex casa cantoniera ubicata lungo la provinciale 29 del valore di 36.400 euro da valorizzare mediante gestione e locazione o concessione a medio e lungo termine non superiore a 50 anni con rinnovo del comodato d'uso dal 2017 immobile a Siculiana ex casello ubicato in contrada omo morto lungo la provinciale 75 del valore di 5.951 euro con rinnovo del comodato d'uso nel 2017 ed ancora immobile ad Agrigento sede casa della Speranza ubicato in via Gramsci da rinnovare in comodato d'uso nel 2017 il piano approvato fa parte integrante dei documenti allegati al bilancio di previsione del 2017 deliberato dal commissario straordinario il segretario della CONFA di Agrigento Maglio Cardella esprime solidarietà ai lavoratori dell'ex provincia di Agrigento che si sono riuniti in assemblea sindacale per manifestare contro la rimodulazione delle mansioni del personale disposta al commissario dell'ente Cardella afferma in tali casi non ci si può affidare al sorteggio ma solo ed esclusivamente alla concertazione con i sindacati il piano di miglioramento dei servizi che si intende imporre ai lavoratori non è frutto né di consenso né di partecipazione attiva dei dipendenti la CONFA e le chiederà più presto un incontro al commissario Marino per esporre più ampiamente sul tema le proprie ragioni avanzando inoltre delle proposte nel merito intendiamo così avviare una battaglia per rivendicare un corretto funzionale ripristino dell'ente intermedio provincia in un quadro territoriale correlato con i piani di sviluppo dei comuni Nuova puntata di Polis questa sera alle 21 su Teleradio Canigati ospita la segretaria della funzione pubblica della CISL Floriana Russo Introito che ha parlato dell'attività sindacale posta in essere all'ex provincia nei vari comuni agrigentini la puntata sarà replicata domani alle 15 sentiamo adesso un passaggio dell'intervista con Floriana Russo Introito I dipendenti delle province in questo momento come sapete stanno vivendo un periodo molto particolare determinato dal fatto che c'è una vacazio legislativa e soprattutto ritardo nell'approvazione della legge regionale mentre tutto il resto d'Italia ha già legiferato sulle province invece per quanto riguarda la nostra regione è tanto stato annunciato però poi alla fine di fatto come sapete sappiamo si ritornerà verosimilmente alle votazioni a votare fortunatamente devo dire fortunatamente perché in questo momento c'è una situazione determinata dalla presenza di un commissario straordinario che probabilmente sta penalizzando la riorganizzazione dell'ente in che senso ci sono dei passaggi questo commissario sta portando avanti presumibilmente diciamo difformemente da quella che è la legge o meglio sicuramente c'è il rispetto di tutti i canoni di legge però indiformità a quelle che sono un atteggiamento di rispetto e dell'organizzazione sindacale e anche dei dirigenti solitamente quando si porta un piano riorganizzativo avanti ovviamente si fa con l'avallo del dirigente che ritiene che conosce bene l'organizzazione che conosce bene i lavoratori e sa dove allocare la forza lavoro e invece il dirigente cioè il commissario da solo ha deciso di poter portare avanti questo piano di riorganizzazione tra l'altro indicando semplicemente dalle situazioni relative ai lavoratori con contratto a tempo determinato e ai lavoratori degli uffici relazioni con il pubblico la valle dei templi continua a regalare gioielli che lasciano di stucco gli esperti dagli scavi nell'area del tempio romano nelle vicinanze del lagora gli archeologi hanno trovato un gocciolatoio a forma di testa di leone un reperto inedito che si va ad aggiungere alle altre preziose testimonianze ritrovate nella zona si tratta esattamente di una protom leonina un doccione molto probabilmente posto nell'architrave del portico che contornava il tempio romano il ritrovamento spiega il direttore del parco archeologico Giuseppe Parello è avvenuto a ridosso del lato est del portico quindi l'ipotesi è che si tratti di un doccione un elemento architettonico figurato che aveva la funzione di smaltire l'acqua dal tetto della struttura la mafia ordina suicidate a Tilio Manca il libro del giornalista Lorenzo Baldo che sarà presentato questa sera alle 20.30 a Campobello di Ricata presso il cortile del municipio interverranno il sindaco Gianni Picone Fabio Repici e Gaetano Avanzato modererà i lavori Iole Garuti il patrocino del comune iniziativa dell'associazione culturale Zabbara l'evento si inquadra nel piano comunale di promozione culturale e sociale per il territorio adesso lo sport il vertice c'è stato ma i contenuti del colloquio che con ogni probabilità sono soltanto esplorativi non sono ancora chiari il patron dell'agragas Marcello Giavarini a Milano incontrato i rappresentanti del fondo romano che hanno manifestato l'intenzione di acquistare il 30% del pacchetto di quote superando così la crisi societaria che ha rischiato per due volte di far scomparire l'agragas dal panorama calcistico nazionale nel frattempo Alessi avrebbe iniziato a prendere contatti con l'allenatore Raffaele Di Napoli che secondo indiscrizioni sarebbe confermato anche nel caso in cui la trattativa con i romani dovesse andare in porto il tecnico campano ripartirebbe da una squadra giovane seguendo lo stesso percorso della scorsa stagione anche se la speranza è quella di lanciare il club Biancazzurro dal punto di vista finanziario e quindi di potersi permettere qualche giocatore di categoria in più Il Licata Calcio ha ingaggiato altri due calciatori confermando così di avere intenzione di allestire una rosa competitiva in giallo blu sono arrivati l'attaccante Vincenzo Agate e il centrocampista Giuseppe Pira l'estroso attaccante Agate vanta nel suo curriculum diverse stagioni in Lega Pro e Serie D nello scorso campionato ha indossato la maglia del Mazzara andando a segno ben 12 volte per Pira invece centrocampista Ligatesi si tratta di una conferma e domani sera a proposito di eccellenza ci sarà a Canicattì la presentazione del Canicattì Calcio il nuovo Canicattì Calcio che si presenterà alla città con i nuovi elementi con gli elementi che sono stati riconfermati una squadra al 50% rinnovata quella che sarà a disposizione di Mister Sebi Catania con il raduno a partire dal 20 da oggi praticamente mentre ieri c'è stato uno stagio per i giovani calciatori il raduno quindi partirà oggi nel pomeriggio allo stadio Carlotta Bordonaro la squadra è già a disposizione del Mister domani la presentazione ufficiale poi da lunedì si inizierà a lavorare sodo per preparare il prossimo campionato di eccellenza partendo dalla fase preliminare della Coppa Italia ed è tutto lo sport conclude questa nostra edizione del telegiornale grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie per aver guardato